Ennessima rivolta in un carcere brasiliano, anche se stavolta non si sono ripetuti i massacri delle ultime settimane. Diverse decine di detenuti sono però riusciti a fuggire. È accaduto a Bauru, dove i prigionieri hanno messo fuoco alla prigione. Quello che accade dentro gli istituti di pena brasiliani non è però soltanto provocato dal sovraffollamento. È vero che le condizioni sono spesso terribili, con situazioni al limite dell'inumano, ma la tensione che sta facendo esplodere le carceri ha anche altri motivi. Si tratta di una vera e propria guerra di cartelli in territori. Le prigioni fondamentali per il controllo del traffico di droga in tutto il paese. I cartelli sfruttano anche l'appoggio di organizzazioni criminali straniere. In Sud America e soprattutto in Brasile, ad esempio, è molto attiva l'Andrangheta calabrese. Centinaia i morti in questi mesi. La risposta delle autorità ad Alcasus, ad esempio, è stata solo quella di disporre dei container nel cortile della prigione per evitare nuovi scontri fra cartelli, ma il problema persiste.